buongiorno oggi siamo siamo partiti da carnino superiore siamo in altissima valtanaro e la destinazione di oggi è il mitico marguais 2651 metri è la vetta più alta delle alpi ligui e come si può forse evincere da il carico sulla schiena non sarà proprio una gita da un giorno ma piazzeremo la tenda in cima e ci faremo una bella notte spero sotto le stelle anche se adesso il tempo non promette molto bene tutto grigio beh per contro si cammina benissimo si sta bene fa fresco però sicuramente senza il sole tutti questi fantastici colori primaverili vengono un po' a mancare e niente ci vediamo dopo grazie a tutti rifugio don barbea quota 2079 fin qua la salita è molto percorso è molto scorrevole la salita vera inizia adesso alla volta del marguais immesso nella nebbia quanto vorrei che il rifugio fosse aperto potermi bere un bel caffettino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Passo della Gaina 2357, qua c'è un tratto un pochino rognoso, neve molla, si sprofondava un sacco e un passo sono sprofondato completamente fino al linguine, non escevo a uscire fuori, sembrava di essermene sabbie mobili e adesso manca gli ultimi 300 metri qua sulla via diretta, sul filo di cresta sembra esserci meno neve operazioni di scavo in corso non è vero 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 no soprattutto molto comodi stiamo e ho rischiato praticamente di perdere l'uso dei piedi veramente ho avuto paura a dieci minuti e poi niente ci siamo fatti da mangiare ci sono scalderati non si vede una mazza c'è il pentolino sai che bon con pastina e scatolette varie e niente sta adesso si esce a fare serata sono le dieci e mezza buongiorno sono le otto e trenta abbiamo dormito fantasticamente di m stiamo sciogliendo la neve per farci un bel caffettino c'è un vento pazzesco però fuori il tempo e niente la parte più critica ovviamente sarà smontare tutto e metterlo lo zaino vabbè ce la faremo dai ce la siamo voluta buongiorno 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione